Sono Chiara San Nataro, dottoranda dell'Università di Udine e mi occupo di nutrizione animale, in particolare di nutrizione dei ruminanti. Questi animali sono i più allevati al mondo grazie alla loro capacità di utilizzare alimenti fibrosi e di trasformarli in alimenti di alto valore nutrizionale per l'uomo come la carne e il latte. Lo scopo del mio progetto di ricerca è quello di indagare il metabolismo ruminale con sistemi di fermentazione in vitro, cioè in laboratorio, senza l'utilizzo diretto di animali ed esperimento. Tra questi sistemi c'è anche un rumine artificiale messo a punto presso l'Università di Udine. Lo scopo ultimo del mio progetto di ricerca è quello di migliorare l'efficienza ruminale e ridurre al minimo gli impatti ambientali derivanti dal processo di fermentazione che viene naturalmente all'interno del rumine.